Con questa informazione riservatissima che abbiamo avuto da un amico prete, il concetto terminerebbe. A parte scusate che siamo ritornati dall'India completamente insensibili agli applausi, ai fischi, alle tentazioni della carne in generale, anche questa. Ma poi non ho detto che il concetto è finito. Ho detto che il concetto terminerebbe. Voce del verbo terminerebbe. Se non fosse che nel frattempo mi fosse, mi è arrivato un messaggio che dice sono qui fuori che aspetto, iniziate il petto che fa pipipi che io arrivo. Aggiunge solo per Rocco. Credo che intende Rocco Tana. Schiacciati il bottone. Non dice se è quello della gialla, no? Forse intende Pirulino. Ocrona! Figarette! Eccolo! Figlia! 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 Figlia Verosa! Figlia di puttana! Orgoline! Ragazzi, sono tutti i giorni di carnetto, mi scambi con la fine delle linee per siete, ma rende il primo petto, con la vostra e il gesto di figlia! Grazie a tutti i giorni di carnetto! Eccolo! Ha, 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 ha! Uh! Chi è giovanato il discolente con la resta scompitante che disturba la mia pubblica? Vedo qualche cosa sul suo mondo e poi c'è scritto, che c'è scritto? S.C. Che non è stato il Ciacoppe, che può essere stato il problema di anche quello che ci non è stato il Ciacoppe! Sarà il santo! Santo Ciacoppe! No! Santo il Ciacoppe! No! 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 Buongiorno a tutti. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.